Musica Buongiorno, allora possiamo cominciare. Terremo dei ritmi serrati perché come voi sapete questi talk del forum della PA hanno un tempo ben preciso che è quello appunto di un'ora. Questo talk riguarderà il titolo valori e valore nella pubblica amministrazione e il sottotitolo che è quello che poi dichiara di che cosa vogliamo parlare è il ruolo strategico della rete dei comitati unici di garanzia. Vi dico subito che tutti i sei discussant che sono presenti oggi appartengono tutti alla rete dei comitati unici di garanzia e adesso ve li presento brevemente anche perché in questa maniera gli do anche l'ordine secondo il quale interverranno. Sara Valacuzza alla quale chiedo di segnalarsi è presidente del comitato unico di garanzia dell'università degli studi di Milano e nonché professoressa ordinaria ovviamente nella quotidianità di diritto amministrativo. Abbiamo poi Daniela Cervigni che è una componente del Cug dell'AIFA, l'AIFA per chi non lo ricordasse è l'agenzia del farmaco, poi Sabrina Colombari che è presidente del comitato unico di garanzia dell'azienda USL di Bologna. Segue Marianna Pignata, siamo di nuovo in ambito universitario, questa volta una università della Campania, Luigi Van Vitelli, quindi vedete anche che estrema varietà di esperienze. Università, ASL e poi vedremo anche un ministero con Gilda Gallerati che è presidente del comitato unico di garanzia del polo culturale del ministero di imprese Made in Italy e per ultimo a intervenire sarà Fabio Prasca che è membro del comitato unico di garanzia dell'agenzia spaziale italiana. Allora, a questo punto ho saltato qualcuno? No, li ho chiamati tutti in causa, ciascuno di loro tratterà un aspetto relativo alla strategicità dei comitati unici di garanzia, è chiaro che tutti loro e molti del pubblico sono convinti che il comitato unico di garanzia ha un valore strategico, il problema è che non sempre le amministrazioni di provenienza sono altrettanto convinti e questo è un momento di riflessione. La prima a intervenire sarà proprio Sara Balaguzza che interverrà su questo argomento, adesso poi lei chiaramente lo declinerà, misurare la parità di genere nelle università e dalle cose che lei dirà e le dice proprio dal di dentro vi renderete conto che questa misurazione non ci rende assolutamente soddisfatti. Prego Sara. Grazie, grazie Marco, buonasera a tutti. Credo che lo attivino dalla regia, dovete senza cuffie non riuscite a... Nel mondo dell'università il tema della relazione dell'accademia con le donne è un argomento per noi significativo sotto vari aspetti, non parlerò solo di donne, non crediamo che il problema della soluzione dei problemi di parità in qualsiasi area dell'organizzazione pubblica possa essere affidato ad una separazione tra mondo femminile e mondo maschile. Quello che sta emergendo nell'affrontare le questioni di parità è che è necessario ragionare di valorizzazione delle differenze e in questo i Cug sono un esempio che può essere veramente promotore di innovazione, si parla di partnership di genere per descrivere quanto sia importante che ci si ingaggi in una trasversalità dell'approccio alle tematiche della parità. È cambiato moltissimo il clima culturale che circonda le questioni di parità e anche le azioni che si stanno ragionando sono delle azioni che partono dalla misurazione dei dati e richiedono un'osservazione che non è più solo di approccio ma è proprio quantitativa, direi metrica. Anche le università stanno lavorando su degli aspetti di misurazione in fase preliminare per comprendere dove sono e se ci sono queste problematiche che riguardano la parità. Se vi interessa l'argomento vi consiglio di guardare i bilanci di genere che sono ormai una presenza abbastanza dettagliata con delle analisi molto specifiche che le nostre università italiane hanno a partire da una presa di posizione molto chiara della Cruy di qualche anno fa che ha redatto delle linee guida perché i Cug si dotassero di bilanci di genere. Cosa emerge? Non parlo solo della mia università che è un'università che vive in un contesto particolare per il lavoro che è Milano e che probabilmente ha dei dati leggermente migliori sull'approccio alla parità che non altre realtà universitarie italiane. Però i dati sulle questioni di analisi dei rapporti tra donna e carriera accademica parlano un linguaggio piuttosto comune. Io ho visto che il counter non funziona e quindi improvviserò sulla percezione che ho del tempo e ogni tanto Marco guardami se esorbito. Quali sono questi dati? Il dato che è più interessante da analizzare è questo. Si laureano più donne, iniziano il percorso accademico più donne, sono più dottorande le donne, arrivano al mondo della posizione di ricercatore quasi in via paritaria 50-50 nella posizione apicale di professore ordinario o professoressa ordinaria il rapporto si magicamente inverte più o meno 80% sono uomini e 20% sono donne. Questo 80-20 quando invece si inizia il percorso accademico è a favore delle donne cioè 80 donne iniziano e 20 uomini iniziano. Quando si trovano invece sulla posizione apicale il rapporto è invertito perché evidentemente c'è la misurazione quantitativa dei dati ci dimostra che c'è un problema di qualcosa che accade nel percorso accademico delle donne che va esaminato. Le donne potrebbero non avere propensione, cioè decidere di non ingaggiarsi sull'attività accademica. Questa domanda però ha una risposta immediatamente negativa, non è questa la motivazione perché se seguiamo le posizioni accademiche delle donne vediamo che le donne stanno nelle università ma non riguadagnano la posizione apicale. Non sto dicendo niente di originale naturalmente però qual è l'analisi del fenomeno? Cosa ci sta dimostrando l'analisi del fenomeno? Che le donne hanno maggiore carico amministrativo cioè si occupano di fare i Coug, hanno maggiore carico didattico e hanno dei periodi di off legate per esempio alla famiglia che gli uomini hanno meno. Le donne sono meno presenti nelle commissioni di concorso perché essendo numericamente minori quell'80 di uomini che gestisce le posizioni di concorso sulle posizioni di prima fascia naturalmente influenza quindi c'è da una parte una questione legata al bisogno dei maestri degli eredi che crea un enclave che bisogna guardare negli occhi e che deve collaborare secondo me alla partnership di genere che stiamo dicendo e dall'altra c'è un problema oggettivo che deve avere un rilievo accademico se ha un rilievo sociale di supporto alle donne che consideri che le donne nel loro percorso di vita hanno probabilmente dei rallentamenti nella carriera accademica nella fase delle pubblicazioni nella fase della ricerca diciamo legate al loro ruolo e alla loro azione sociale. Quindi a partire da questi dati quali sono le azioni concrete che trovate nei bilanci di genere per ridurre la parità? Conteggiare periodi di assenza dal lavoro per maternità o paternità anche ai fini delle pubblicazioni. Il principio di continuità delle pubblicazioni richiesto nella carriera accademica deve avere due pubblicazioni ogni anno ma se io quell'anno ho fatto un figlio è più facile che possa non avere quelle due pubblicazioni. Quell'elemento di compensazione deve per forza comparire altrimenti non ci sarà mai una valutazione paritaria tra l'uomo e la donna. Programmi di welfare ce ne sono tantissimi, sono molto rilevanti per supportare le giovani madri non solo in IDO, alcune università hanno in IDO, altri hanno dei buoni e dei supporti, altri hanno un lavoro agile la nostra università ha investito per esempio moltissimo sul lavoro agile. Ci sono delle procedure per la verifica dei bias, cioè dei pregiudizi che vengono da quel mondo di quell'enclave che dicevo prima maestro, erede, allievo, maschio, futuro, 80% del 100% dei nostri colleghi. Una cosa molto interessante su cui stiamo lavorando è il career advisor, cioè delle persone indipendenti che siano esterne alle scuole che condizionano le posizioni accademiche e che possano parlare con le colleghe per esaminare le loro singole posizioni. Sapete abbiamo fatto questa verifica, se voi nella stessa posizione due ricercatori chiedono al maestro, professore mi consiglia di andare all'estero? Normalmente la risposta per l'uomo è ovviamente sì e la risposta per la donna è ma valuti bene, non so lei ha problemi di famiglia e questo condiziona enormemente il futuro della carriera di quelle due persone che si sono rivolte per crescere nella loro professionalità e quindi la presenza di advisor indipendenti nel mondo dell'università sta cominciando a risuonare come un tema interessante per la parità di genere. Inserire prove anonime nei concorsi, questo è un altro tema su cui noi stiamo moltissimo ragionando i concorsi universitari non possono essere internamente anonimizzati perché noi veniamo valutati sulla base delle nostre pubblicazioni, sulla base della nostra capacità didattica quindi necessariamente ci vuole una valutazione che associa a me al prodotto che ho pubblicato però gli iscritti da valutarsi in maniera anonima da una commissione per esempio cioè quindi prove scritte di valutazione anonime possono dare la garanzia dell'indipendenza nella commissione valutativa e anche qui la stranezza è che ci sono questi iscritti sulle posizioni di dottorato, quelli che le donne vincono all'80%, non ci sono più nella crescita verticale della carriera dove prevale la reputazione. Anche questo ragionamento è interessante perché l'anonimato dovrebbe avvicinare a un discorso di parità a prescindere anche dal genere, di parità to cure. Obiettivi sociali del PNRR naturalmente ci spingono verso questo tipo di orientamento che include la parità e la valorizzazione della differenza e la responsabilità sociale delle università, specialmente se pubbliche, io non penso che possa scappare da queste trame. Cosa manca? Secondo me mancano degli standard, cioè nel tema dell'affrontare le questioni di parità tutte le università stanno misurando ma le università poi agiscono come individui autonomi, sarebbe molto utile che ci fossero degli standard che prescrivono dei canoni con un'applicazione flessibile ma se per esempio l'anonimato fosse generalizzato ciascuna università avrebbe la forza di gestire poi la procedura più coerente. Quindi esperienza positiva, diversità dal punto di vista culturale e parità di genere sono un obiettivo dell'università, se dovessi dire a chi può raccogliere un suggerimento che cosa darci, dateci degli standard anche per renderci a noi tra università tutti uguali. Grazie Sara, purtroppo il timer è impietoso e vi avverto che ha cominciato a rifunzionare quindi lo potete guardare perché automaticamente vi dà il senso del tempo che trascorre. C'è un altro argomento che è costantemente all'attenzione dei comitati unici di garanzia ma purtroppo è anche all'attenzione della cronaca giornaliera che è quella delle molestie sul posto di lavoro che riguarda ovviamente non soltanto le donne ma anche gli uomini. Di questo argomento ci parlerà Daniela Cervigni che come vi ho detto in sede di presentazione è membro del comitato unico di garanzia dell'agenzia del farmaco, è un avvocato ed è un funzionario giuridico incardinato proprio presso l'ufficio contenzioso. Prego. Eccoci, grazie. Si sente? Io volevo in realtà introdurre la convenzione dell'organizzazione internazionale del lavoro che è stata adottata a Ginevra nel 21 giugno del 2019 riguardante proprio l'eliminazione, cioè l'obiettivo della convenzione è quello di eliminare la violenza e il molestia dal mondo del lavoro. Questa importante convenzione è stata ratificata dall'Italia e l'Italia è stato il primo paese europeo a ratificarla nel 2021 ed è entrata definitivamente in vigore ad ottobre 2022 dopo che è trascorso l'anno dalla registrazione del suo direttore generale. Questa convenzione opera una vera e propria rielaborazione concettuale dei termini di violenza e moleste, intendendo per tali, in maniera anche diversa dalla concezione che troviamo in altre normative sia nazionali che europee, intendendo per tali un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili o anche la minaccia di porli in essere sia in maniera occasionale o anche in maniera ripetuta e questa è anche un'altra differenza che sottolineo per esempio a differenza del mobbing che nella giurisprudenza viene richiesto spesso in occasioni più ripetute e possono tali comportamenti inaccettabili causare dei danni fisici, sessuali, psicologici nei confronti del soggetto che li subisce. Anche l'ambito di implicazione di questa convenzione è molto interessante perché si applica a tutti i lavoratori sia del settore pubblico che del settore privato sia a tutte le economie sia informale che informale e con riferimento preciso ai lavoratori senza distinzione di status contrattuale, cioè addirittura la convenzione ne ha previsto l'applicazione anche ai tirocinanti, agli apprendisti, ai formatori, a tutti coloro che entrano in contatto con il mondo del lavoro, addirittura a coloro che ne sono usciti e a coloro che cercano lavoro. Questa è proprio in un'ottica di un braccio operativo ancora più ampio intendendo per tale anche il luogo di lavoro, non solo il luogo dove si esplica la prestazione lavorativa ma anche all'esterno riconoscendo come tale gli spostamenti dovuti a viaggi di lavoro, formazione, eventi o anche le stesse comunicazioni lavorative a distanza ad esempio che sono rese possibili dalla nuova tecnologia. La cosa importante di questo nuovo atto è che vuole esortare ad un mondo del lavoro libero da molestie e violenza nel suo ambito e quindi invita tutti gli stati membri ad adottare leggi e regolamenti che impongano ai datori di lavoro di dotarsi a loro volta di misure che siano in grado di prevenire questo tipo di comportamenti e pratiche come abbiamo detto inaccettabili. In Italia abbiamo detto che è stata ratificata nel 2021 però le misure di prevenzione contro le molestie e contro la violenza nel mondo del lavoro trovano la loro norma base nell'articolo 2087 del codice civile quindi se ci pensiamo una norma che già nel 1942 ha pensato a come prevenire e come più che altro tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore in ambiente lavorativo. Il legislatore nella legge di bilancio 2018 ha risottolineato l'importanza dell'aspetto prevenzionistico del 2087 prevedendo all'interno del codice pari opportunità nell'articolo 26 un nuovo comma che prevede che i datori di lavoro sono tenuti a garantire l'integrità psicofisica del lavoratore anche concordando con le organizzazioni sindacali rappresentative ogni misura di tipo informativo o anche formativo più opportuna al fine proprio di prevenire le molestie sessuali nell'ambiente di lavoro. Questa ricostruzione che tra l'altro è un altro articolo importantissimo del codice delle pari opportunità è l'articolo 50 bis dettato in materia di discriminazioni che prevede la possibilità per i contratti collettivi di prevedere una serie di misure proprio al fine di prevenire la discriminazione e le molestie soprattutto sessuali in ambito lavorativo. Questo panoramica è per dire che la normativa anche in Italia c'è e c'è addirittura come abbiamo detto fin dal 1942 però la convenzione ha un'altra visione e soprattutto un input programmatorio che va oltre perché invita e richiama tutti gli stati membri ad adottare disposizioni normative che collocano le varie politiche di prevenzione nell'ambito del corpus normativo ancora più ampio dettato in materia di tutela e sicurezza, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Quindi questo vuol dire che vi è un concetto di salute ancora più ampio che la molestia viene vista come in grado di determinare un danno fisico, sessuale, psicologico ma anche patrimoniale e non patrimoniale in quanto può addirittura colpire nella progressione di carriera o nell'accesso alla professionalità per l'interessata che la subisce. Quindi a seguito della ratifica di questo importante provvedimento il legislatore è chiamato a chiedere ai suoi datori di lavoro di prevedere all'interno del corpus normativo sulla tutela e sicurezza del lavoro anche l'integrazione della violenza e delle molestie nell'ambito della valutazione rischi. questo significa che chiaramente significa lavoro in più per le amministrazioni e lavoro in più sicuramente per i Cug che dovranno affiancarle e collaborare sinergicamente con loro però significa che il datore di lavoro dovrà prevedere proprio all'interno del documento valutazione rischi quindi quelli che possono essere appunto la valutazione del rischio da molestia, il pregiudizio e soprattutto prevedere anche i pericoli derivanti dal rischio da violenza e molestie anche attraverso un'opportuna campagna di sensibilizzazione, l'informazione e la formazione adeguata in quanto sicuramente la prevenzione partendo dalla condanna dei comportamenti comunque presuppone che necessariamente si arrivi a una programmazione chiara e a una sensibilizzazione chiara di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori in ordine a quelle che sono le gravità delle ripercussioni che atti inaccettabili appunto come le violenze e le molestie possono generare sulla salute psicologica, fisica e sessuale dei lavoratori e delle lavoratrici ma anche soprattutto in quello che è il loro ambito familiare perché comunque poi dopo chiaramente il lavoro, si parla del diritto del lavoro e quindi si parla della vita delle persone e riportare a casa anche nell'ambito familiare e nell'ambito sociale questo tipo di problematiche ovviamente ha delle ripercussioni che poi possono anche essere pensate e quindi per questo è importante la convenzione in un'ottica di visione e di programmazione perché possono essere pensate anche in un accrescimento di costi che sono appunto necessari per la salvaguardia e la tutela dei lavoratori colpiti. Grazie Daniela, non ti preoccupare perché questo argomento sarà ripreso nell'intervento successivo il mio consiglio è sempre quello di non cercare di dire più cose accelerando cercate di dire meno cose scandendo. Su questo stesso argomento interverrà in un'ottica proprio come dire di salute pubblica perché del resto è presidente del comitato unico di garanzia dell'azienda USA di Bologna, Sabrina Colombari, infatti il taglio sarà di questo tipo stare bene al lavoro è un bene comune. Prego. Grazie, si sente? Mi sentite? Sì. Grazie Marco, grazie anche per questa bella introduzione che mi facilita il lancio. Stare bene al lavoro anche come bene comune perché noi siamo dipendenti pubblici e servitori dello Stato, il nostro stare bene, lavorare bene fa bene al nostro Paese, fa bene ai cittadini e alle cittadine per cui lo ha detto oggi in apertura il Ministro, me lo sono segnato, ha detto il successo delle organizzazioni dipende dalla cura che si ha delle persone che vi lavorano e questo è il senso. Ahimè però purtroppo sto ferma e se parliamo di molestie e di violenze sul lavoro tocchiamo un tema che non si concilia proprio con lo stare bene al lavoro. Ci sono dei dati molto robusti, una letteratura consolidata che ci dice che quando le persone stanno bene le performance degli enti sono migliori, che i risultati qualitativamente e quantitativamente sono migliori. Sappiamo invece, poi chi mi ha preceduto lo ha raccontato molto bene, che molestie e violenze sul lavoro causano dei danni importanti, causano dei danni, Daniela ce lo diceva, alle persone fisici, morali, psicologici, al loro contesto familiare, causano dei danni importanti alle organizzazioni stesse, danni di natura economica, quantificabili. Purtroppo su questo non ci sono ancora tantissimi dati, su che cosa succede, quanto costano questi fenomeni alle organizzazioni. Sappiamo però che in termini di giornate perse per malattia, di turnover del personale, di contenzioso, di risarcimento, di perdita di reputazione degli enti, hanno un costo pesantissimo e hanno un danno sociale, perché poi se appunto ragioniamo da servitori dello Stato, le nostre organizzazioni pesano sul bilancio dello Stato. C'è un dato che mi ha colpito moltissimo dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che ha quantificato in qualcosa che arriva al 3,5% del prodotto interno lordo il costo delle molestie e delle violenze sul lavoro. Guardate, è una piccola manovrina economica, sono veramente, si parla di, come dire, interesse dello Stato a occuparsi di questi temi. Sono stati fatti tantissimi passi avanti, è stato detto da più parti, sia sul piano culturale, che normativo, che regolamentare, ma questi fenomeni restano, lo dice proprio l'organizzazione del lavoro, un fenomeno ricorrente e persistente. Guardate, negli ultimi cinque anni il 21% delle donne che lavorano e il 16% degli uomini che lavorano hanno dichiarato di aver subito almeno un episodio di molestia o di violenza sul lavoro in senso ampio. Se parliamo di molestia o violenza invece a carattere sessuale, la percentuale delle donne vittima è infinitamente superiore. Però il tema, complessivamente inteso, è un tema che riguarda uomini e donne. E sappiamo che è un fenomeno estremamente sommerso, si usa molto frequentemente la metafora della punta dell'iceberg e anch'io non ne ho trovata una migliore, ma l'Istat ci dice che otto persone su dieci, dopo che sono state vittime di violenza e di molestia, non ne hanno parlato con nessuno sui luoghi di lavoro e quasi nessuno ha denunciato alle forze dell'ordine. Questo perché? Perché non si ha fiducia nei percorsi di segnalazione, perché si ha paura di non essere creduti, perché si ha timore di subire delle ritorsioni e si ha paura di perdere quel posto di lavoro. Le persone sentono di non poter dire. Bene, esistono però, e qui vengo alla pars costruis del mio ragionamento, tante azioni, tanti interventi, tanti dispositivi che possono davvero fare il cambiamento. Il cambiamento è un cambiamento soprattutto di tipo culturale. La logica dell'adempimento e quindi dell'avere le norme è sicuramente una logica che ci aiuta, che ci indirizza, che ci governa, ma se non c'è un forte cambiamento culturale non si va da nessuna parte. E su questo davvero le iniziative sono moltissime. Ne cito tre, due locali e una di sistema. Locali all'interno di ogni ente, l'adozione di un codice di condotta, quindi un codice etico che declini i comportamenti, i valori e i percorsi di segnalazione interni all'ente fa la differenza. La presenza della consigliera di fiducia all'interno di ogni ente, una persona competente, formata e che ha a disposizione un ventaglio di opportunità per aiutare le persone fa la differenza. La quella che abbiamo definito azione positiva di sistema, in realtà secondo me è una best practice, è proprio la rete nazionale dei comitati unici di garantia. Adesso guardo le nostre coordinatrici a cui penso sempre con una gratitudine infinita. Io ho la fortuna, l'onore di farne parte. Ebbene, ecco, questa è una rete capillare, più di 300 enti della pubblica amministrazione, se non ho contato male, in qualche 360 partecipano a questa rete. È un capitale di competenza, di generosità che quotidianamente mette a disposizione di tutti gli enti pubblici occasioni di confronto, di cooperazione, di sinergia, di formazione, di costruzione di percorsi. È davvero lavorare tutte insieme con la consapevolezza che la dignità delle persone è il fondamento del lavoro, soprattutto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e mi taccio. Grazie Sabrina anche per la forza, come dire, anche la sintesi con la quale hai espresso questi concetti. Adesso torniamo in ambito universitario ma cambiamo argomento. Con Marianna Pignata tratteremo invece il Piavo. Allora, voi siete tutti addetti ai lavori, probabilmente, però non è detto, ci potrebbe essere qualcuno che oggi è venuto perché è la prima volta che si accosta a questa tematica o comunque tenete presente di quelli che poi vedranno questa cosa in podcast dopo e più frequentemente tra quel pubblico troviamo qualcuno che magari non è così addetto ai lavori. Quindi le due cose che ti chiedo e te le chiedo all'inizio per non interromperti sono innanzitutto di spiegare appunto che cos'è un Piavo, no? Perché la prima volta che l'ho sentito mi ha ricordato una via di mezzo tra il verso di un pulcino e il verso di un gatto praticamente. Quindi che cos'è il Piavo e la seconda cosa è come mai la tua università, cioè la Manvitelli, è particolarmente nota per delle buone prassi proprio in termini di Piavo. Tete un caso di eccellenza. Prego. Grazie, grazie. Si sente? Perfettamente. Grazie. 30 giugno 2022 parte questa grande rivoluzione chiamata appunto Piavo, piano integrato delle attività ed organizzazione ed è diciamo un documento che è volto soprattutto alla semplificazione della burocrazia, della pubblica amministrazione, verso una maggiore efficienza, una maggiore produttività, una maggiore soprattutto possiamo dire trasparenza dei servizi pubblici. Regolato dall'articolo 6 del decreto legge 80 del 2022 è appunto un documento che va in un certo qual senso a raccogliere quelli che sono piani che ogni anno la pubblica amministrazione ha tenuto a predisporre e quindi parliamo del Pola, parliamo del piano della performance, del piano dell'anticorruzione e trasparenza, il piano di azioni positive. Non è certamente un piano sopra i piani, non è assolutamente la somma dei piani ma possiamo dire che è una sintesi qualificata dei piani perché innanzitutto proprio perché è un documento che tende in un certo qual senso a invitare la pubblica amministrazione a definire quello che è il piano strategico e dell'organizzazione della pubblica amministrazione deve innanzitutto cercare di moderare, mantenere, controllare i rischi ma soprattutto generare valori pubblico e quando parliamo di valori pubblico tutti quanti noi sappiamo che è proprio l'impatto positivo delle azioni che la pubblica amministrazione volge nei confronti appunto degli utenti interni e esterni di tutta la collettività. Vi dicevo è un documento che raccoglie tutto ciò che riguarda il piano strategico di programmazione e di valutazione poi della performance della pubblica amministrazione quindi invita la pubblica amministrazione fondamentalmente anche ad autovalutarsi e a decidere quali sono le linee da seguire soprattutto perché fondamentalmente ogni pubblica amministrazione ha una serie di criticità che vanno assolutamente in ogni caso bisogna prevedere comunque dei correttivi. Bisogna dire che a proposito di obiettivi l'università ha obiettivi relativi appunto al valore pubblico alla valorizzazione del valore pubblico un po' più alti e questo grazie al supporto e all'aiuto della governance e del rettore in primis. Il mio piano del mio ateneo che è considerato tra le best practice degli atenei nazionali ha lavorato molto soprattutto con un'attenzione alla partecipazione e non è un caso che bisogna dire si è fondato su quattro pilastri che è il pilastro di tipo politico, manageriale, funzionale e gestionale e a proposito su quello partecipativo funzionale poi anche con il supporto del nucleo di valutazione che ha avuto un ruolo fondamentale, ha un ruolo fondamentale, il Cug ha svolto il suo ruolo e qui me la canto e me la suono ce la cantiamo e ce la suoniamo. Perché? Perché il Cug oltre diciamo il Cug sostanzialmente come ben sapete prima aveva il suo piano di azioni positive con il Piau il suo piano si è trasformato in un programma di azioni positive che è confluito appunto nel Piau e oltre a predisporre oltre a prevedere il classico bilancio di genere, GEP che sono sicuramente tra gli indicatori del nostro piano strategico ha previsto una serie di azioni che l'ateneo ha tenuto in considerazione. Tra queste in particolare, questo voglio dirlo perché penso che sia una buona pratica che dovrebbe essere attivata negli atenei ma forse in quasi tutte le pubbliche amministrazioni, questo sistema diciamo della predisposizione e somministrazione di questionari sul benessere lavorativo che sono stati il nostro diciamo fiore all'occhiello, il nostro punto di forza perché proprio da questi questionari che sono stati somministrati al personale docente e personale tecnico amministrativo bisogna dire che noi audacemente lo abbiamo proposto anche alla comunità studentesca, sono uscite una serie ovviamente di criticità che hanno messo di fronte ecco a quella che era la governance e soprattutto bisogna dire ai dirigenti del nostro ateneo di fronte a delle scelte anche sui corsi di formazione, prima i corsi di formazione diciamo che erano corsi un po' come dire organizzati ma non erano mai diciamo finalizzati, ora invece si lavora molto sul benessere lavorativo o meglio nella consapevolezza che sia un lavoratore come dire si sente di appartenere a quell'amministrazione ovviamente riesce ad essere anche più produttivo. A questo punto Marco ho sforato? Hai poi 30 secondi per chiudere. Un minuto, ci tenevo a precisare che la forza comunque e questo è importante è proprio questa visione olistica diciamo del Piao cioè la capacità di riuscire a svolgere un'attività e quindi praticamente una qui ci deve essere soprattutto però una volontà politica quindi io sono stata fortunata perché ho un rettore tra virgolette illuminato e ho una governance diciamo un direttore, una direttrice generale illuminata però il coraggio di non assolutamente come dire pensare di fare da solo ma lavorare in maniera partecipativa e il Cug come dicevo ha svolto il suo ruolo importante. Grazie. C'è una coerenza no? Il rettore è illuminato, i docenti sono illuminati, gli studenti suppongo pure. È un'università mi pare chiaro talmente piena di luce che il Piao non poteva che essere all'altezza. Allora adesso cambiamo di nuovo argomento perché stiamo parlando tanto dei comitati unici di garanzia no? Ma questi comitati unici di garanzia abbiamo sentito le cose importanti anche che fanno ma per quanto riguarda poi le funzioni e le relazioni che questi comitati hanno. Come scorrono le cose nella quotidianità? Riescono in effetti a svolgere il ruolo che gli è assegnato o poi si trovano alle prese con una serie di ostacoli? Su questo argomento interverranno gli ultimi due speaker della giornata. La prima è Gilda Gallerati, fino a questo momento non abbiamo avuto nessuna rappresentante diciamo di Cug di Ministero, ce siamo questa volta, ricordo che il Ministero è quello delle imprese e del Made in Italy e proprio interverrà su questo argomento, funzioni e relazioni dei comitati unici di garanzia. Allora, idealità, comincio col dire che i dati di un recente studio del Censys ci dicono che nel nostro paese i cinque valori considerati primari sono la cura delle persone, la diversità e quindi la valorizzazione della diversità, l'inclusione, lo sviluppo sostenibile e la trasparenza. Ora, non credo di poter essere contraddetta da nessuno se dico che con tutta evidenza si tratta di cinque valori fondamentali che sono snodi, nodi, ma che insomma sono la colonna, vogliamo dire sonora, ma anche la colonna vertebrale, l'ideologia dei comitati. Quindi siamo perfettamente sul pezzo e di più. Ognuna di queste parole, io ho detto cura delle persone, diversità, inclusione, sviluppo sostenibile e trasparenza, sono diciamo concetti che sembrano intangibili, in realtà si traducono in azioni fortemente tangibili e sono molto interconnesse tra di loro. Proverò a spiegarvi perché sono interconnesse. Per esempio da anni i comitati, ne abbiamo già sentito parlare, della sicurezza spingono le organizzazioni di lavoro a dedicarsi alla cura delle persone, dei lavoratori, delle lavoratrici, non soltanto ovviamente come adempimento normativo e quindi finalizzato all'unica prospettiva della sicurezza sul luogo di lavoro, ma anche per garantire quei modelli che dicevamo ci vengono dal concetto che ci previene dall'OMS, cioè condurre i dipendenti verso uno stato totale di benessere fisico, mentale e sociale. In questo senso quindi da anni i comitati, lo possiamo dire tutte noi, sono le sentinelle sul campo della sicurezza e del benessere, non solo declinati in questo modo, ma anche ricomprendendoli nel benessere organizzativo a tutto tondo, misurando il clima lavorativo, valorizzando le risorse umane e adesso arriviamo alla seconda parola che è la diversità, l'interconnessione della diversità con la sicurezza. La diversità, prima si è parlato di differenze, i comitati sanno che le differenze dividono, ovviamente, perché essere differenti vuol dire, è un termine che vogliamo definire negativo, la diversità invece unisce e come si riesce a capire la differenza tra diversità e differenza se non facendo il percorso che abbiamo fatto noi negli anni di parità, di pari opportunità, soltanto definendo la parità e le pari opportunità, si arriva a definire la diversità e quindi la diversità con tutte le sue declinazioni che vanno valorizzate, la diversità di pensiero, la diversità di inclinazioni, la diversità di prospettive, la differenza stabilisce già invece siamo differenti e quindi ci sarà uno più forte, uno più debole. attraverso la funzione propositiva poi i comitati hanno sospinto tutto il sistema pubblico verso, lo dicevamo prima, un approccio olistico nella gestione delle risorse umane che quindi non è fatta più soltanto di gestione delle risorse umane fondamentale ma anche di ascolto, di coinvolgimento nella responsabilità ovviamente, di soddisfazione professionale e quindi di inclusione, siamo arrivati alla terza parola, all'inclusione che ovviamente genera la ricchezza, la ricchezza nelle opinioni, nelle soluzioni, nello spirito critico. Questo fanno i comitati quando sono forti e questo va detto, quando sono forti e consapevoli dentro le organizzazioni ma anche dentro la contrattazione sindacale, che se ne dica anche se siamo su piani differenti rispetto ai sindacati. Oggi direi che il ruolo dei comitati merita ovviamente di essere sempre più valorizzato nell'interesse collettivo abbiamo detto e del buon andamento del lavoro pubblico perché arriviamo dove? Al quarto valore, a quello dello sviluppo sostenibile, proprio la ricchezza del dettato normativo che ha affidato ai comitati la possibilità di portare nelle organizzazioni una ricchezza di valori ulteriore, esce quindi dai confini dell'organizzazione del lavoro e si fa veramente portatore di cambiamento, di democrazia. Sappiamo quanto la rete al suo interno sia basata su un principio democratico, non ci sono gerarchie. È meraviglioso quando ci incontriamo, direi che il coordinamento serve solo per fluidificare le attività, noi siamo una inter pares, abbiamo la stessa forza e la percepiamo, la stessa forza propositiva, propulsiva e anche di impulso, di sviluppo, voglio dire, verso tutti gli altri comitati che forse sono alcuni più deboli, alcuni più forti, ma c'è un effetto moltiplicatore che insomma mi fa dire anche che se i comitati dentro le amministrazioni fossero valutati per quello che sono non sarebbero più soltanto una potenziale massa critica, siamo ancora lontani anche da quello, ma sarebbero davvero propulsivi di cambiamento culturale, enorme cambiamento culturale. Quello che è mancato negli anni è stato il contrappeso, cioè il bilanciamento dello sguardo, l'evoluzione dei comitati ci dimostra che la parità, lo dicevamo prima, la presenza delle donne non è una variabile oramai che ci interessa più tanto come traguardo liberale, diciamo così. È parte fondamentale, indispensabile per proseguire su obiettivi di bene comune naturalmente, che sono poi quelli fissati dall'agenda 2030, che quindi va verso il clima e la cura del pianeta, verso la lotta alla povertà, ci vogliamo stare per questo, verso la pace, la giustizia, la tutela dei minori e delle persone fragili, le comunità sostenibili, il consumo responsabile ovviamente. E quindi in questo senso dico, questo sarebbe il mondo ideale, tutto quello che noi veramente potremmo fare. Io mi sento di dire che dentro le organizzazioni ci troviamo sempre su una sorta di corrente, di onda perpetua che sale e scende, che ci riporta, la risacca che ci riporta verso la spiaggia e poi di nuovo riusciamo a fare grandi slanci. Dobbiamo ricominciare sempre da capo. Se parliamo di acqua, allora diciamo che ce lo siamo detto prima, come gutta, cava, tlapidem, credo sia opportuno insistere, rimanere solide, schiena dritta, sguardo verso il futuro e non perdere mai la fiducia perché abbiamo una tale potenzialità che trasmettiamo, questa è anche l'altra grande bellezza, quando le presidenti lasciano, non lasciano dicendo addio e tornandosene a casa, restano nel loro modo naturalmente, accompagnano, restano in ascolto e indirizzano se necessario. Grazie Gilda. Su questo stesso argomento, ruolo, funzioni e stato dell'arte dei comitati unici di garanzia interverrà adesso anche Fabio Brasca, con lui lasciamo l'elemento terra e passiamo all'elemento aria perché lui è membro del Cug dell'Agenzia Spaziale Italiana e quindi ci aspettiamo tutti che voli alto, però per ancorarlo a delle cose concrete perché non si perda nello spazio, allora io ti chiedo di essere preciso anche perché sei l'ultimo relatore, quindi i comitati unici di garanzia sono un po' gli eredi dei comitati di pari opportunità, ma oggi non si occupano certamente soltanto di pari opportunità, nel tempo hanno avuto sempre assegnate nuove funzioni, quindi la domanda è, sono state assegnate nuove funzioni i Cug, sono stati poi anche adeguatamente potenziati? Il lavoro dei Cug come viene considerato e valorizzato dalla pubblica amministrazione? E ultima cosa, proprio alla fine, siccome sei l'ultimo e quindi rimani ancora più impresso, anche come sintesi finale del talk appunto di oggi, dai proprio materialmente una scaletta delle cose che oggi la rete dei Cug chiede per poter funzionare meglio. Prego Fabio. Sì grazie, intanto buonasera a tutti, vorrei premettere che se anche come agenzia che si occupa di spazio siamo portati all'extra territorialità, ma in realtà poi abbiamo anche dei mezzi potenti per l'osservazione della terra, quindi con questi mezzi cerchiamo anche di tornare così con i piedi per terra, nel mondo del lavoro pubblico e dove oggi ci viene proposto da questo forum di mettere al centro le persone. I Cug sono organismi importantissimi per le pubbliche amministrazioni perché sono fatte di persone qualificate e agiscono per le persone nei modi più diversi e sempre molto qualificati che abbiamo sentito ricordati dalle colleghe. I Cug fanno tutela delle persone attraverso i nuclei di ascolto, fanno supporto e consulenza alle amministrazioni sulle materie di competenza, fanno innovazione e fanno anche sperimentazione, quindi non sono più semplicemente dei comitati pari opportunità o di contrasto al fenomeno del mobbing, ma hanno assunto su di loro dei compiti anche di contrasto a ogni tipo di violenza morale e psicologica e contrasto a ogni tipo di discriminazione, con l'obiettivo centrale e fondamentale di creare ambienti di lavoro pubblico improntati ad un ambiente sereno, al benessere organizzativo, con l'ulteriore ricaduta di favorire la produttività del lavoro pubblico, quindi il vero valore pubblico che è quello delle persone che lavorano nella pubblica amministrazione orientato ai bisogni della cittadinanza, degli utenti, quindi sono organismi che con il loro lavoro devono favorire questo incontro evitando assolutamente che ci siano dei contrasti e delle incomprensioni, ma per poter fare questo è necessario che gli ambienti di lavoro diventino attrattivi per i futuri lavoratori, per le giovani generazioni, avrà sicuramente fatto scalpore la notizia che i grandi bandi di reclutamento del PNRR non hanno ottenuto, conseguito gli esiti sperati, perché tanti giovani che avevano interesse a entrare nel mondo del lavoro pubblico hanno ritenuto che le retribuzioni non fossero adeguate, ma anche e soprattutto che gli ambienti di lavoro non garantissero quei valori che sono stati così ben ripresi poc'anzi. Quindi c'è da dire che nel tempo questi organismi sono stati destinatari di nuove funzioni, ma non sono stati adeguatamente rafforzati all'interno delle pubbliche amministrazioni. L'ultima direttiva del Ministero della Funzione pubblica risale addirittura a quattro anni fa e conteneva alcuni spunti interessanti, importanti, come per esempio le modalità di scelta dei membri del Cug, che fossero persone qualificate dal punto di vista della competenza e dell'esperienza, il coinvolgimento nel piano delle azioni positive e nella verifica della sua realizzazione, l'enfasi posta sulla formazione, ma per quanto riguarda invece una delle funzioni fondamentali che potrebbe fare veramente la differenza è quella consultiva, ebbene questo enunciato è rimasto lettera morta perché quando si parla di riorganizzazione, quando si parla di modalità agili del lavoro pubblico, di valutazione delle persone, di conciliazione vita-lavoro, i Cug non vengono consultati e ascoltati. Quindi da questo punto di vista c'è da dire che nel tempo, grazie al grande lavoro che è stato fatto, gli organismi di tutela hanno potuto operare con molte limitazioni che derivano anche dal fatto che per esempio il tempo di lavoro che viene dedicato dai membri del Cug alle attività di competenza viene considerato quasi un volontariato extra lavorativo, quindi non si considera il grande impegno e anche la disponibilità di tempo che queste attività così qualificate e così delicate richiedono. Quindi da questo punto di vista noi ci sentiamo anche per tutte le cose che ci siamo ripetuti, che continuamente ci ripetiamo nell'ambito della rete dei Cug, che per poter porre al centro dell'azione amministrativa la persona bisogna rafforzare i Cug perché i Cug sono degli organismi dedicati alle persone, ai lavoratori e anche agli utenti. Quindi da questo punto di vista noi ci sentiamo di fare delle proposte puntuali che speriamo possano essere recepite. Innanzitutto riteniamo che la funzione consultiva dei Cug debba essere resa in qualche modo obbligatorio, che sulle materie di competenza del Cug questi organismi debbano essere obbligatoriamente sentiti tramite un parere che non sarà vincolante ma che però deve essere obbligatoriamente richiesto. È altrettanto importante che le risorse che vengono assegnate a questi organismi siano risorse strumentali e funzionali tali da poterli porre nella condizione di svolgere tutti i compiti che abbiamo elencato, che abbiamo visto. Quindi sarebbe necessario dotarli di un bilancio, della possibilità anche di partecipare in quanto tali a bandi per finanziamenti di progetti della Commissione europea per i quali sappiamo ci vogliono competenze specifiche e poi è necessario che venga valorizzato il lavoro di chi lavora nei Cug. Noi spesso ci troviamo di fronte a situazioni nelle quali nemmeno si sa che cosa fanno questi comitati e quando si fanno le progressioni di carriera il lavoro svolto all'interno dei comitati non viene considerato. Quindi invece noi riteniamo che essendo un lavoro altamente qualificato e qualificante per la pubblica amministrazione debba essere adeguatamente valorizzato nell'ambito delle progressioni di carriera. Grazie Fabio. E in chiusura abbiamo superato soltanto di due minuti il tempo, ci avverte, time's up sarebbe come game over insomma. Ringrazio il pubblico innanzitutto per la disponibilità con la quale ci ha seguito, ringrazio Marianna, Sara, Gilda, Daniela, Sabrina e Fabio, non ho sbagliato il nome, perché sono stati bravi a stare in dei tempi assolutamente contingentati. Il discorso ovviamente non si chiude qui, perché avremo ancora tantissimi altri, hanno continuamente i Cug, tantissime occasioni per continuare ad affrontare questi problemi. Il mio ringraziamento è anche per il fatto che se il moderatore può far bene il suo lavoro è perché i protagonisti gliel'hanno consentito. È un po' come l'arbitro di calcio, se non si nota vuol dire che la partita è stata corretta. Grazie.